Salve ragazzi, lo sapete che ogni tanto mi occupo anche di wrestling sul mio canale. Purtroppo qualche giorno fa abbiamo appreso tutti della bruttissima notizia che ci è arrivata. Ovviamente parlo della scomparsa di Bray Wyatt. Forse è uno che ha saputo interpretare quelli che saranno personaggi indimenticabili nella WWE. Vi lascio qui con tutte le sue gimmick e migliori momenti della sua carriera per omaggiarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.